Decisamente pagina, cambiamo atmosfera. Protagonista a questo punto è la canzone d'autore. L'artista è una stella particolarmente apprezzata nella scena europea contemporanea. Questa sera ci farà ascoltare un brano che si intitola God's a Sweet Case, God's Regrets. Signore e signori, Tom McRae. Signore e signori, Tom McRae. Signore e signori, Tom McRae. Signore e signore, Tom McRae. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti